eccoci qua siamo al secondo parco assistenza siamo appena rientrati tutto a posto riprendi come fai a girare la telecamera qua come fai a girare la telecamera ciao ragazzi siamo tutti qua pronti finchia che testa che ho tutto a posto siamo al secondo parco mancano ancora due prove e niente adesso i ragazzi stanno lavorando tutti i controlli sulla macchina assieme a me il mio fido piccolo ricognitore futuro pilota gli abbiamo fatto fare un po di esperienza di prendere le correzioni che è molto importante che almeno impara a vedere com'è e niente adesso vi faccio vedere un po la macchina dai così si divertiti eccoci qua mano motore abbastanza incasinato avanti treno andiamo dentro nel caldo non fa per niente caldo c'è beniamino che ha le rani in mezzo alle gambe macchina molto bella molto curata macchina nuova adesso fra un attimo aspettiamo pedrini Ettore Ettore Ciccio di qualcosa per i tuoi adetti della scuderia i tuoi seguaci della scuderia Adesso pure non capisco la maglietta e mi fa capire anche la macchina dai vediamo dopo ragazzi a dopo ciao ciao